Il comune di Battipaglia si è parlato del progetto Safe Breed donato dal Rotary Club di Battipaglia all'ente e alla comunità. Ad illustrare il progetto di durata biennale la sindaca Cecilia Francese, il presidente del Rotary 2018-2019 Giorgio Scala, il presidente eletto per il 2019-2020 Alfonso Truno ed ancora per la Science Square, start-up innovativa che ha sviluppato il progetto di monitoraggio ambientale della città di Battipaglia, Aristide Giuliano. Presidente Scala, da dove parte questa idea progettuale? Ovviamente parte dal momento che la nostra città sta vivendo. Il problema ambientale non lo scopro io a Battipaglia né tanto meno in Rotary. In questo caso il Rotary ha avuto proprio la necessità di valutare il problema ambientale perché come sapete la nostra associazione agisce da sempre con progetti, servizi, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Ora era doveroso quasi intervenire nel tema ambientale. La durata del progetto su carta è biennale, anche se ci siamo già impegnati sul quadriennio, quindi è una cosa condivisa già con il presidente che mi seguirà, Alfonso Truno. I dati quindi saranno raccolti sicuramente per il prossimo biennio. L'installazione delle centraline quindi è prevista, speriamo, in tempi brevi. Ne abbiamo già installate tre, tre sono già attive. Da settembre partirà anche l'applicazione mobile per i cittadini, quindi i cittadini cominceranno a ricepire già i primi dati ufficiali della qualità dell'aria. E' ovvio che il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione oltre che informarla, quindi intavoleremo workshop, appuntamenti, quindi proprio per la valutazione del dato stesso. Lei prima ha parlato di rimuovere l'etichetta di città pattumiera, è brutto dirlo però, città pattumiera che è stata affibbiata a battipaglia. Sì, secondo me l'ambizione di questo progetto è proprio questa, quindi praticamente il Rotary oltre che proporsi come associazione finanziatrice del progetto, però il fine deve essere altro. Cioè il nostro obiettivo è quello di dimostrare agli addetti ai lavori e a chi ci guarda che battipaglia è in grado di reagire con coscienza, di reagire al problema quindi ponendo un rimedio efficace e soprattutto con un metodo scientifico. Questo darebbe praticamente, toglierebbe l'etichetta che finora è stata data a battipaglia. A me piacerebbe definire la città ecoprotetta, questa sarebbe la definizione più bella. È chiaro che ho condiviso questo progetto con Giorgio e quindi darò prosecuzione a lo stesso perché credo che sia proprio un aspetto che riguarda sia i notariani che la stessa popolazione. Chiaramente come mi definivo già prima in conferenza stampa sarò il presidente operaio, perché? Perché colui che poi abbia determinati tipi di progettazioni e pianificazioni dovrà raccogliere. Perché questi progetti per quanto possono avere un costo limitato, nel senso che siamo riusciti ad avere un costo limitato, chiaramente dovranno essere finanziati ed alimentati attraverso delle risorse. Quindi come Giorgio porterò in essere e compirò delle iniziative che ci serviranno soprattutto per raccogliere in questa direzione. Quindi solleciteremo, solleciterò le altre associazioni, in termini anche pubblici, popolazione, chiunque vorrà partecipare in questa direzione. Immagina un allargamento del progetto anche ad altri comuni del comprensorio. Beh guardi io me lo auspico, perché dicevo prima appunto, questa iniziativa è un aspetto soprattutto di carattere culturale, chiaramente anche pratico, ma soprattutto culturale. Quindi prendere atto di ciò che è avvenuto sul territorio, tutto ciò che è avvenuto sul territorio, cominciare a pensare di porre rimedio e poi cominciare effettivamente a porre rimedio. Se il progetto verrà condiviso, preso a prestito o comunque copiato in senso buono anche da altri enti locali o comuni limitrofi, secondo me ciò denoterà, sottolineerà il successo che abbiamo avuto a noi oggi. Tutto qua. Abbiamo già installato tre centraline, ne installeremo oltre sei qui a Battipaglia. Queste centraline riescono a monitorare in tempo reale 24 ore su 24 ed in continuo le concentrazioni di polveri sottili PM2,5 e PM10 e composti organici volatili, oltre a tutti i parametri meteorologici, quindi intensità e direzione del vento, umidità relativa e temperatura. E prima parlava del vantaggio che queste centraline hanno rispetto a quelle dell'ARPAC ed è quello relativo alla velocità. Chiaro, il nostro è un monitoraggio della qualità dell'aria ad elevata risoluzione spaziale e temporale, quindi riusciamo ad installare tante centraline in uno stesso territorio, mappando il territorio, mappando gli inquinanti, ed un'elevata risoluzione temporale, quindi riusciamo ad inviare in tempo reale i dati ogni tre minuti. Quindi mentre i dati tradizionali vengono resi disponibili anche il giorno dopo con una media su tutta la giornata precedente, essenzialmente quindi un dato al giorno disponibile il giorno successivo, noi inviamo questi dati ogni tre minuti, quindi una molla di dati incredibile ed in tempo reale. Quindi in real time possiamo dare l'alert oppure la visualizzazione dei dati. L'attendibilità scientifica di questi dati? Sì, questo progetto è nato all'interno di un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno. Siamo una start-up innovativa, abbiamo il brevetto. Dagli studi effettuati durante questi progetti di ricerca, essenzialmente abbiamo realizzato queste apparecchiature che si fondano sulle più moderne tecnologie di rilevazione dei gas inquinanti o delle polveri sottili, attualmente in commercio, attualmente a disposizione. L'attendibilità dei dati? Stiamo intorno dalle comparazioni che abbiamo fatto con quelli ufficiali, quindi per esempio delle ARPA, intorno a uno scarto percentuale del circa il 5-10%. Però questo, diciamo in qualche modo, anche mitigato dal fatto che ne abbiamo tantissimi di dati. Quindi è vero che la precisione può essere di qualche punto percentuale inferiore rispetto a quelli ufficiali, però avendo l'andamento durante la giornata chiaramente questo compensa.